Santa Maria è la terra dei cedri e il cedro è il simbolo che ha una grande importanza per l'ebraismo. Qui ogni anno molti rabbini vengono appunto per incontrarsi con questo frutto che è il cedro, per poterlo utilizzare e soprattutto per farne lo strumento di affermazione di valori, perché per gli ebrei il cedro ha un valore importante. Santa Maria è un crocevia appunto di incontro con esperienze, tradizioni culturali e religiose diverse. Noi abbiamo voluto qui, assieme al sindaco di Santa Maria del Cedro, quest'anno proiettare questa tradizione, questa esperienza in uno scenario più ampio e farne opportunità, occasione per far incontrare esperienze diverse. Naturalmente da qui nasce un progetto, un progetto per la valorizzazione delle tradizioni ebraiche nel nostro paese nelle quali la Calabria ha uno spazio importante, perché appunto l'ebraismo qui ha avuto passaggi importanti, una storia che deve essere valorizzata a Santa Maria del Cedro, proprio perché è la terra dei cedri, di questo frutto appunto che assume un valore per gli ebrei particolarmente significativo e deve diventare la culla di un rapporto fecondo che deve essere coltivato, deve essere alimentato. Noi abbiamo avuto per realizzare questo progetto un incontro con il nuovo ambasciatore di Israele a Roma nella primavera scorsa, da lì è scaturita questa idea. Io devo ringraziare Klaus Davi che ha dato in questo senso un contributo importante, stato messaggero di questo progetto e di questa impostazione culturale che noi come regione abbiamo assunto e quella di oggi deve essere l'inizio di un percorso nuovo per ricollocare questa esperienza in una dimensione più ampia.